Ciao a tutti, sono Marco Gezza, ambassador di Beam Sanctuary per l'Italia. Oggi parleremo della distilleria più antica d'America, la distilleria di Makersmark. Infatti Makersmark viene prodotto tutt'oggi all'oretto in quella che è considerata la distilleria più antica d'America, infatti è la prima distilleria della quale si hanno delle menzioni storiche. In realtà la distilleria viene comprata da Bill Samuels nel 1953 quando decide di mettere mano all'antica ricetta di bourbon di famiglia che a causa di un incendio andò perduta. Così non avendo a disposizione grosse risorse economiche per aspettare gli anni di invecchiamento del bourbon fece delle prove, quindi prese i diversi cereali con cui fare queste prove e iniziò cuocere il pane. La pagnotta più buona fu quella prodotta con, oltre chiaramente al mais che vi ricordo deve essere il 51% minimo per essere considerato un bourbon, questa pagnotta conteneva il grano rosso invernale ed è stato proprio grazie al grano rosso invernale che Makersmark oggi è diventato un prodotto iconico. Infatti è stato il primo whisky americano a utilizzare il grano rosso invernale all'interno del suo mesh ed è un tipo di grano molto pregiato che veniva utilizzato nelle pasticcerie ed ha a Makersmark questa nota molto molto morbida. Un whisky che racconta la storia americana di artigianalità, infatti è un whisky small batch che esce a 45 gradi alcolici. Ogni bottiglia viene cera laccata a mano, infatti se voi affiancherete due bottiglie diverse di Makersmark non ne troverete mai una uguale, così come anche ogni etichetta viene ancora oggi tagliata a mano e incollata a mano sulla bottiglia. La forma iconica della bottiglia è invece un'invenzione di Maggie Samuels, la moglie di Bill. Lei era collezionatrice e amante dei cognac francesi e proprio al cognac si è ispirata per disegnare questa iconica bottiglia di whisky americano. Anche il nome Makersmark è opera della moglie di Bill, infatti oltre a collezionare cognac la moglie di Bill, Maggie, collezionava oggetti in peltro e sugli oggetti più importanti proprio il produttore metteva il suo marchio, il Makersmark, e fu così che lei decise di chiamare Makersmark il gioiello prodotto dal marito. Infine il simbolo che vedete qui SIV raccolto in questo cerchio con una stella è proprio una dedica al marito. S sta per Samuels, IV sta per 4, il numero romano, e si riferisce al fatto che Bill Samuels è la quarta generazione di distillatori di famiglia. E infine la piccola stella che vedete è una dedica alla distilleria di Loretto chiamata Star Hill Farm. Un whisky morbido, un whisky generoso, un whisky che come vi dicevo prima è prodotto in piccoli lotti. Tutt'oggi i lotti hanno un sistema di invecchiamento particolare, infatti tutte le botti vengono costantemente durante l'anno ruotate a mano dalla parte sottostante alla parte antistante al magazzino, proprio per far sì che le temperature rimangano costanti durante l'anno. Un prodotto morbido, un prodotto da una bevuta generosa con questo bel palato vanigliato. L'acqua con cui è composto è un'acqua fortemente calcarea e il calcare è l'alleato numero uno del bourbon. Infatti grazie proprio alla azione di filtraggio del calcare si riesce a togliere dall'acqua il ferro, il ferro che è l'acerrimo nemico di tutti i bourbon. E quindi che dire, cheers!